SEDIAMOCI al tavolo dei più grandi bari della storia per scoprire quali siano i loro veri segreti. Temuto dai giocatori, amato dalle donne, ricercato dalla polizia, SW Erneis a soli 24 anni era già considerato il più grande baro del mondo. Guadagnava al tavolo da gioco cifre da capogiro, spese con altrettanta facilità in abiti di russo, gioielli e regali per le sue accompagnatrici. Morì suicida a soli 34 anni. Lui e la sua compagna si spararono per non essere arrestati e quindi separati dalla polizia. Il barare al gioco ha come ogni impresa le sue leggende. Uno delle più famose è SW Erneis, il misterioso autore del libro L'esperto del tavolo da gioco, un libro che insegna le tecniche, ma anche la psicologia per diventare bari professionisti. È infatti fondamentale capire come e quando utilizzare un trucco. La cosa interessante è che la prima parte è dedicata alle tecniche per barare al gioco, mentre la seconda parte è dedicata ai giochi di prestigio. Un legame stretto, quello che corre tra azzardo e magia. Ma la vera leggenda del Novecento è senza dubbio John Scarn. Nato nel 1903, Scarn divenne noto in tutto il mondo come il maggiore esperto di trucchi di carte. Era così famoso che Paul Newman volle che fosse proprio lui a prestargli le mani nel film La Stangata. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il governo americano lo assunse per insegnare ai soldati a proteggersi dai bari. E perfino Meyer Lansky, uno dei leggendari boss della mafia new yorkese, lo voleva come baro nella sua gang. Divenne famoso con un gioco che ancora oggi porta il suo nome. Gli assi di Scarn. Si tratta di prendere un mazzo di carte ancora sigillato, mischiarlo e farlo mischiare da altre persone. A questo punto Scarn lo prendeva, mischiava, apriva e trovava un asso. Mischiava ancora e trovava il secondo asso e poi il terzo. Quando restava l'ultimo asso nel mazzo, lui si guardava in giro, mischiava rapidamente le carte, estraeva una carta ed era il quarto asso. Nessuno ha mai saputo come riuscisse a farlo e solo tre maghi ancora in vita sono in grado di ripetere questa tecnica. Sono io una di queste tre persone? Diciamo che forse potrei essere il quarto. Come abbiamo appena visto, il mondo dei bar è un mondo molto pericoloso. E a volte vincere e perdere è solo un dettaglio, a volte si rischia molto di più, si rischia anche la vita. Abbiamo con noi quello che è considerato il giocatore d'azzardo più famoso d'Italia. Abbiamo capito in questi minuti qua che non è solo il più famoso, ma è anche il più bravo. Marco Baldini. Insomma, se ero bravo non ne perdevo tanti. Quanto hai perso al gioco d'azzardo? Beh, guarda, purtroppo ai cavalli mi sono avvicinato ai 5 miliardi, mentre a carte mi rifacevo, diciamo. Purtroppo, non è un vanto, però sai, i cavalli non li guidavo io, le carte meno male le manovravo io, allora insomma mi difendevo. Quindi praticamente bilanciavi i cavalli con le carte? Sì, sì. Da che cosa si capisce che un giocatore aveva un bar? Guarda, io ne ho trovati fortunatamente pochi, oppure se ne ho trovati non me ne sono accorto e ora mi spiego perché magari ho perso tanti soldi. No, io però ne ho cuccato uno una volta che era, diciamo, non un baro proprio professionista, ma c'aveva un modo curioso di barare. Vuoi te lo faccio vedere? Sì. Allora, guarda. Lui barava solo quando gli davano un poker servito, adesso qui ho un full, scusami. Il full, lo spieghiamo ai telespettatori, sono un tris e una coppia. Quando gli arrivava un full servito, lui cosa faceva? Rialzava il piatto, poi cambiava tre carte, ok? E scartava il tris, cioè il full, scartava. Quando poi gli davano le carte, ok? Le tre carte gli davano. Lui con una scusa distraeva le persone che, dalla persona che dava le carte e le persone al tavolo invece erano presissime a spillare. Lui riprendeva le sue, capito? Tac, riprendeva i tre assi e così aveva full in mano. Però aveva dato l'impressione di aver avuto solo una coppia, capito? Certo. Dunque, ce l'aveva servito, però otteneva dei vantaggi rialzando il gioco, scartando e riprendendo i tre assi. E che cosa gli avete fatto? Beh, l'abbiamo scoperto perché la terza volta che gli dicevamo, eh ragazzo, guarda che hai preso le carte che hai scartato. Lui diceva, no, perché questi sono tre assi, queste sono tre scartine. Una volta può succedere, la seconda gli abbiamo detto, guarda, dai retta a me, lascia i soldi e vattene perché è meglio. Eravamo in quattro, tutti belli grossotti, se n'è andato. Tu hai avuto qualche esperienza negativa? Sì, però io, non perché ero un baro, io l'ho avuta perché purtroppo sai, quando sei giocatore si è scapestrati. Spesso e volentieri si va a finire anche nelle mani dell'usura. Io ero andato a finire in bocca degli usurai e quando vai a finire in quei giri lì, poi dopo ti scontri con delle brutte realtà. Insomma, se non li hai li devi tirar fuori poi per uscirne perché non è semplice. Infatti un consiglio che io do sempre è non ci cadete mai, neanche per pochi soldi, perché poi pochi soldi diventano delle cifre esorbitanti. Infatti, mollate quel mondo, se avete perso metteteci una pietra sopra perché tanto domani è un altro giorno e si può giocare. In virtù della tua esperienza, quali consigli ci puoi dare per poterci difendere un tavolo da gioco? Guarda, la prima regola in assoluto in qualsiasi tipo di gioco d'azzardo che devi seguire per riuscire non a vincere ma a salvarti, e te lo dice uno, hai preso tante lecche, è quando vinci spingi perché giochi con i soldi o del casino o dell'ippodromo o del tavolo. Quando perdi, non cercare mai di rifarti ma tira le briglie, prendi in mano e fermati. Non spizzare le carte? Non mai spizzare quei libidi nosissimi, spizzare vuol dire stare lì anche dieci minuti a vedere l'angolino della carta, mentre voi fate così, gli altri si passano le carte, si tirano gli assi, no? Cioè le carte vanno aperte velocemente e guardatevi cosa vi accade intorno e poi non portatevi mai il blocchetto degli assegni, portatevi solo i contanti quando avete finiti quelli e non giocate mai a credito, a segnare. Perché sai un'altra cosa che è psicologica ma è vera? Non giocate mai con le fiche, è meglio giocare con i soldi veri perché la fiche è un pezzo di plastica, tu hai perso un pezzo di plastica, poi quando vai a pagare ti accorgi quanto vale il pezzo di plastica. Molto meglio se giochi con i soldi veri così ti rendi conto di quanto hai sperperato, capito? E ovviamente anche non bere quando si gioca. Assolutamente l'alcol è bandito dal tavolo, alcol e il libretto degli assegni sono un connubio esplosivo, tanto vale lanciarsi da quarto piano, fate più. E tu come hai imparato? Perdendo o per amicizia? Sempre perdendo, tu non impari mai per amicizia, impari perdendo. E invece come hai fatto a smettere? Guarda, allora, siamo onesti, dai lo dico davanti a una telecamera, anzi faccio come hai presente quelli pensiti. Bene, io con la voce da paperino, facciamolo sul davanti. Allora, no, io ho imparato una cosa importante, ho imparato a prendere il gioco per quello che è. Cioè il gioco è divertimento, lo dice la parola stessa, la radice ludica, giocare, il bambino gioca e si diverte. Il gioco è un lusso, è una cosa che ti serve per divertirti, per passare nel tempo allegramente. Se tu pensi che il gioco sia un mezzo per fare dei soldi, lì diventi un perdente. E riusciresti a tracciare per noi giocatori dilettanti un identikit del baro? Tu non c'hai la faccia del giocatore dilettante, però te lo direi caro mezzo. Perciò sono uno dei più pericolosi. E appunto, per questo io a un tavolo con te non mi ci metterei mai. Mi dicevi? No, ti chiedo se ci fosse la possibilità di farci la carta di identità, un identikit di un baro, in modo tale che ci si possa difendere. Ma guarda, io tutti i bari che ho conosciuto sono delle persone estremamente sfigate all'apparenza. Sono persone che non gli daresti due lire. Sono persone che potrebbero sembrare degli impiegatucci bastonati dalla vita, un po' scialbi, vestiti anche maluccio, che sono molto umili, si seguono al tavolo. Posso fare una partitella con voi? Sapete, io gioco una volta ogni tanto. Questa è proprio la... Ti deve puzzare lontano un chilometro. Che poi il baro, non è che bara tutta la sera. Basta bari due volte, ti porta via. È stata fortuna, magari ha perso tutta la sera, però vince i due piatti, ti pela, cosa gli dice? È barato? Devi anche produrre le prove. Noi ti ringraziamo veramente di cuore per aver accettato il nostro invito. Figura. Grazie veramente di cuore. No, grazie a te. Noi però dobbiamo chiudere la nostra inchiesta sul mondo dei bari e dei giocatori d'azzardo. E per farlo dobbiamo seguire le abili mani di uno dei migliori manipolatori del mondo. Se per caso giocando a poker vi capitasse la possibilità di scegliere le carte, sicuramente sareste tranquilli di poter vincere. Beh, ovviamente dipende da chi è il vostro avversario. In questi ultimi anni il gioco del poker ha avuto un successo incredibile. Infatti ora è lo sport più pagato del mondo. Non so come fanno a chiamarlo uno sport, non so come ci si potrebbe far male giocando a carte, ma si può perdere un mucchio di soldi giocando con uno che bara. Io barerò. Lo farò con questo mazzo di carte. È un mazzo a norma che si può comprare in qualsiasi negozio. Mischio bene le carte e taglio. Decida lei dove vuole tagliare, da qualche parte, nel mezzo. Ok. Allora tagliamo e prendiamo le dieci carte successive. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Il resto del mazzo non lo usiamo. Con dieci carte si fanno due mani di poker, cinque carte per ogni mano. Diamo le carte e nella posizione in cui taglia uno di noi, vince e l'altro perde. C'è una possibilità del 50%, esatto? Per rendere le cose più difficili, per me le darò un'ampia scelta. Do le carte in questo modo. Che carta vuole? Bene. Allora, questa carta è mia. Solo per lei, quale di queste due carte sceglie? Ok. Giriamo questa, così. Ok. Metto sopra questa. Quale di queste due è per me? Questa. Ok. Bene. Di nuovo, altre tre. Quale? Sì. È una bella mano. Qual è la carta per me? Quale? Questa. Giusto, vero? E lei quale vuole? Questa. Un asso, benissimo. Sì. Qual è la carta per me? Questa? Lei ha scelto tutte le mie carte. E tutte le sue. Ne sono rimaste due. Secondo lei, quale delle due è la migliore per lei? Questa qui? Ok. Allora, abbiamo tre nove. Le sue carte sono... Quattro nove. È difficile da battere. Forse per superarlo ci vorrebbero quattro dieci. Non ho quattro dieci, ma ho il dieci di picche, il fante di picche, la regina di picche, il re di picche e l'asso di picche. E questa si chiama scala reale. Vinco io. Ed ecco che cosa si prova ad essere imbrogliati. Tutto pensavo tranne che potesse capitare al mio avversario una scala reale. Ho visto con i miei occhi e qui da vicino che Fabrizio ha scelto le carte lui. Non so come ha fatto. Sicuramente non mi sederei mai a un tavolo di gioco con il nostro amico. Non è certo il concorrente ideale, soprattutto se uno poi ci scommette anche dei soldi. È il frutto probabilmente di una manipolazione. Lui è molto più bravo di me, non tanto a giocare, ma a manipolarmi anche mentalmente. Insomma, state lontani da questo uomo.